Buonasera a tutti, siamo qui a trebbiare nel campo 3 di patate Buonasera a tutti 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 che è dall'interno della cabina siamo quasi a 60.000 andiamo a cercare il carro, eccolo qua accendiamolo qua ovviamente ne ho lasciato indietro non è questo il problema non ho ancora capito se queste piante qua si possono tagliare non ho ancora capito se queste piante c'è di buono che non devo scendere dal camion per avviare lo scaricamento si scarica automaticamente la mano il sound io sono pieno andiamo a scaricare mettiamo un attimo la mappa e io dovrei andare a scaricare qua al garden center la mappa non è che la mappa non è che Grazie a tutti. 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 La colza, 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 qua, la colza, la colza, la colza, la colza, abbiamo, inizia, la colza, 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 ma noi lo vendiamo 13.000 euro dai chiudo qui il video e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao